Le grotte dei cristalli sono i posti migliori in cui trovare delle conchiglie. Questi cristalli sembrano corni di unicorni magici! Shani, mi sono sempre chiesta da dove provenga la leggenda degli unicorni. Tu che sei tutto, me lo sapresti dire? Shani... Non c'è tempo per questo, ora concentriamoci. Credo di aver visto una conchiglia lì dietro, ma dobbiamo essere piccole per arrivare fin lì. Potere mini-polli! Guarda! È perfetta! Così Laila non avrà motivo di odiarmi. La puoi rimpicciolire. Potere mini-polli! No! La mia conchiglia salva amicizia! No! L'alta marea! Ah! È troppo piccolo qui per ingrandirci! Dobbiamo nuotare! La corrente ha portato via la conchiglia! Non sarà facile ritrovarla! Che facciamo ora, Shani? Credo di saperlo. Questo ragno usa le bolle d'aria di altri organismi come serbatoi d'aria. Così può respirare sott'acqua. Se siamo nanoscopiche, possiamo farlo anche noi. Sei la mia secchiona preferita! Potere mini-polli! direi che così va meglio. Ehi, cavallucci marini! Da questa parte! Sentite, siamo in un mare di guai. Ci potete aiutare? Ma dai!